Le notizie del TG Ora. Una donna di 57 anni è stata ferita di striscio con un colpo d'arma da fuoco alla caviglia mentre da quanto riferito ai carabinieri parlava al telefono sul balcone della propria abitazione a Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera in via Torricelli nel quartiere periferico di Pianura. La donna è stata portata in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo le indagini. Verosimilmente, secondo le prime ipotesi, si tratta di un proiettile di rimbalzo. Possibile che il colpo di pistola sia stato sparato nel corso di una stesa nel quartiere. Paura in un ristorante nei quartieri spagnoli a Napoli, saccheggiato da rapinatori armati. Erano due gli uomini vestiti di scuro che, impugnando pistole, hanno fatto irruzione in un locale su Vico Sergente Maggiore. I rapinatori hanno minacciato il personale e tutti gli avventori, derubando l'incasso della serata e i portafogli ai clienti. Nessuno è rimasto ferito. Il raid si è consumato in una manciata di secondi ed ha seminato il terrore tra i presenti che affollavano il ristorante con tutti i tavoli occupati. Dopo aver racemorato il bottino, i malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter. La polizia ha subito avviato le ricerche per sanare i rapinatori, cominciando col setacciare i quartieri a ridosso di Via Toledo. Uamad Sala, un 21enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, si era specializzato in scippi di smartphone, ma è stato arrestato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I carabinieri a Napoli lo hanno incassato per due furti con strappo di telefonini commessi nel centro direzionale ai danni di due donne. Le guardie giurate, mentre tenevano d'occhio le telecamere e i sistemi di vigilanza, hanno assistito in diretta a uno dei furti, vedendo il 21enne strappare il cellulare di mano a una donna che camminava tra le torri mentre era al telefono. Dissequestrati i beni di Biagio e Franco Passarelli, la Corte di Appello di Napoli, letto il rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ha revocato la confisca e di conseguenza ha disposto il dissequestro dei beni tolti il 7 marzo 2013 dal Tribunale di Napoli agli eredi di Dante Passarelli, detto il re dello zucchero, titolare dell'ex IPAM, morto in circostanze non chiare nel 2004 durante il processo Spartacus, nel quale era imputato come imprenditore di fiducia del clan dei Casalesi. Al momento della sua morte i suoi beni erano sotto sequestro già da 9 anni. Tentano di rubare un'auto in un parco, ladri messi in fuga dall'allarme e ripresi dalle telecamere. Quanto è successo durante la notte in un parco di Via della Torre, Traversa che si trova nei pressi del commissarato di polizia Giuliano, in tre hanno messo fuori uso il cancello di entrata e si sono intrufolati nel parcheggio del parco. Il loro obiettivo era una Fiat Punto, hanno infranto il vetro ma l'antifurso dell'auto li ha messi in fuga. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti del commissarato di polizia di Giuliano che hanno avviato le indagini al baglio degli inquirenti, le immagini del sistema di videosorveglianza. Angeli, Eterei, Cavaliere e Pastorelli, un vero e proprio tesoro d'arte composto da oltre 250 personaggi del presepe di fattura settecentesca e dal valore milionario rubato nel napoletano, è stato recuperato dai carabinesi per la tutela del patrimonio culturale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Isernia. E a Eboli, in provincia di Salerno, è canciato un presunto maniaco che si aggirerebbe davanti alle scuole frequentate dai bambini. La grande notizia è il quotidiano il mattino. L'uomo, secondo il racconto di alcuni ragazzini che hanno raccontato il caso ai loro genitori, procede a velocità lenta, affianca i bambini sul marciapiede, abbassa il finestrino e richiama la loro attenzione con un pretesto. La denuncia è partita da alcune mamme. In un video trasmesso ai carabinieri e ai vigili urbani sarebbe stata individuata l'auto nei pressi della scuola Matteo Ripa. Il proprietario del veicolo è stato identificato. Non è ebolitano, ma vive in un comune confinante. Con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG1.